Tra di noi è tutto come prima. Ma non è vero. Già mi guardi con occhi differenti. Tu non sai quante volte mi è già capitato. Quando esiste un passato che ci ha toccati. Non si può mai veramente voltare pagina. Io non mi illudo più. Io non voglio che tu faccia soffrire Silvana per tutta la vita come io ho fatto soffrire mia moglie. Anche se gli altri sono... sono cattivi con le persone come lui. E purtroppo questo succede ancora in ogni parte del mondo. Cosa fai? Scappi. Mi creda padre, io non vorrei provare certe cose. So che hai sbagliato. Anche per me prima era tutto una... sono sbagliato, c'è qualcosa che mi va in mezzo. Sto cercando di capire cos'è di diverso, ma io verso. Ma credimi. Ero tutta idiozia. Non posso. Ti prego di non costringermi a essere quello che non sono. Sono una coppia che viene considerata illegale. Quelli come voi dovrebbero nascondersi, invece di fare questo spettacolino in piena piazza. Sono semplicemente qualcuno che deve nascondersi. Come non dovrei più farlo? Mario era io. Sì. Ho trovato Mario, perché ho smesso di commiserarmi. Altrimenti neanche lui si sarebbe accorto di me. Mario. Io sono molto contento di questa amicizia con Gemma. Non è molto facile per uno come me trovare qualcuno con cui confidarsi. Tu sei Roberto e basta. È estremamente liberatorio poter parlare con qualcuno e sentirsi totalmente se stesso. Ti invito l'ora di ascoltarti. Sono felice. Capire chi sei finalmente. Sì, di aver incontrato una persona speciale.